Siamo con Mario Ambel, direttore della rivista Insegnare. La rivista Insegnare è una rivista del CIDI, prodotta dal CIDI, centro iniziativa democratico degli insegnanti, associazione professionale storica, come altrettanto storica è la rivista stessa. Con Mario Ambel parliamo della uscita di un volume, anzi in due tomi, che parla di cittadinanza. Allora Mario Ambel, come mai questo libro in questo momento, oltretutto un libro molto corposo, sono appunto due tomi per un totale di circa 500 pagine, di che cosa si tratta? Si tratta del tentativo, forse in parte anche di fare il punto su quella lunga tradizione a cui facevi riferimento, di un'idea di scuola che abbiamo sempre ricondotto al mandato costituzionale dell'articolo 3 della Costituzione, un'idea di scuola che secondo noi è la scuola per la cittadinanza e quindi da questo punto di vista è il tentativo di mettere anche un punto fermo, che si proietta ovviamente per il futuro su quella che è la nostra idea di scuola affidata da un lato al progetto curricolare di cui parla il primo volume e dall'altra anche a nuovi possibili scenari, orizzonti di senso per il futuro, dialogo con l'esterno di cui parla il secondo volume. Quindi da questo punto di vista ha anche una motivazione contingente che è sicuramente il contrasto alla legge sull'educazione civica che non condividiamo per i motivi che possiamo anche analizzare, ma il motivo di fondo è proprio quello di riportare alla memoria e proiettare verso il futuro un'idea di scuola, la scuola per la cittadinanza. Ecco perché non condividete molto la legge sulla cittadinanza che peraltro ricordiamo l'è stata approvata in Parlamento quasi a furor di popolo, all'unanimità o quasi? Sì è vero e tra l'altro lo facciamo anche con un certo disagio perché contrastare in qualche modo un'idea, una proposta di legge che è così ampiamente condivisa è imbarazzante ed è anche una responsabilità significativa. Dal punto di vista scolastico la motivazione fondamentale è che crediamo che non solo l'educazione alla cittadinanza appartenga a tutto il progetto curricolare e non a qualche disciplina o peggio ancora una disciplina, ma neanche l'educazione civica. Anche l'educazione civica con i contenuti che la stessa linea guida individuano non è riconducibile secondo noi a una materia, neanche a una sommatoria di interventi, di progettini, di pseudo educazioni e soprattutto non è conciliabile con un voto. Con la sommatoria di una media oltretutto con una battuta si potrebbe dire che rileggevo in questi giorni il documento del Ministero, le indicazioni nazionali e i nuovi scenari che affrontano questi temi e si conclude dicendo non si tratta di aggiungere nuovi insegnamenti semmai di ricalibrare quelli esistenti, una rilettura mirata ed approfondita delle indicazioni del 2012 nella prospettiva dello sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità. Giustamente qui si afferma quello che noi abbiamo affermato nei due volumi, non c'è bisogno di una materia aggiuntiva. Senti, questi due volumi raccolgono contributi che spaziano dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Non credo che sia un caso, cioè so che il CIDI da sempre si batte per un curriculum verticale che parta dall'età di tre anni e vada fino ai 16 anni almeno, ma anche di più. Quindi è così? Sì, senz'altro, è detto bene, è un nostro impegno storico di politica scolastica e di ricerca didattica e forse la carta d'identità più significativa della nostra associazione, quella di proporre, di sperimentare, di far crescere un'idea di curriculum verticale in cui la progressività e la continuità esistano come progressione della crescita culturale degli allievi, ma non siano fatto di cesure, non siano fatti di contrapposizioni o anche di asservimenti di un ordine di scuola rispetto a quello precedente, sai benissimo a cosa mi riferisco, a questa idea un po' malsana che quelli che vengono prima devono lavorare per preparare quello che succede dopo, che è una delle idee peggiori che si possano avere sul rapporto fra gli ordini di scuola. Quindi nei volumi abbiamo volutamente raccolto contributi che riguardano quasi tutte le discipline, così come riguardano l'importanza del curriculum implicito, dell'ambiente di apprendimento e abbiamo cercato di farlo nella progressione dall'inizio, dall'infanzia, fino sicuramente all'obbligo, ma anche guardando successivamente i contributi disciplinari, comprendono anche quello di filosofia e quindi si guarda ampiamente anche al triennio, almeno a quella parte di triennio più vicina in questo caso come il diritto, la filosofia, la storia, ad alle tematiche della cittadinanza. Voi siete ottimisti rispetto alla possibilità che il vostro progetto di curriculum verticale tra 16 o addirittura 18 anni si possa prima o poi realizzare? Questa è un'imbarazzante domanda per me perché io sono considerato una Cassandra portatrice di pessimismo critico, di pessimismo della ragione e ogni tanto dimentico l'ottimismo della volontà. In questo momento è molto difficile guardare nella sfera del futuro perché sappiamo che l'emergenza che stiamo vivendo in qualche misura sta preparando un futuro che però è molto difficile da immaginare. Io ho la sensazione che se provassimo a lavorare attorno alla ricostituzione di alcuni punti fermi anche della storia della nostra scuola che sono stati ampiamente sacrificati, penso al tempo pieno, penso alla collegialità fra gli insegnanti, a una ricerca didattica reale, a una formazione iniziale dei docenti che non sia sempre al servizio dei conflitti non sempre onorevoli fra pedagogisti e disciplinaristi. Ecco, io ho la sensazione che forse con questi elementi potremo guardare con un po' di fiducia al futuro. Se no il rischio è quello di una scuola molto adattiva all'esistente, di una scuola che sia che sia efficiente, sia che sia fallimentare, in realtà è molto funzionale alle disparità, alle disuguaglianze e alle discrasie del presente. Questo oggi mi sembra la preoccupazione maggiore e che ostacola maggiormente le speranze per il futuro. Nella educazione civica e nelle linee guida si dà grande rilievo al tema della sostenibilità. Sembra un po' una tematica ripresa da Edgar Morin. Tu pensi che dobbiamo prestare più attenzione a questo tema o ti pare che sia un po' una moda che prima o poi si sgonfierà? No, beh, se il tema della sostenibilità fosse una moda che si sgonfia mi preoccuperei per il pianeta oltre che per la scuola, nel senso che io ho la sensazione che sicuramente la sostenibilità delle scelte ma soprattutto economiche oltre che culturali e produttive e di vita sia un obiettivo strategico che abbiamo di fronte anche a scuola. Il come viverlo a scuola è invece un impegno più significativo. Noi rimaniamo dell'idea che anche l'approccio alla sostenibilità sia, penso ad esempio, all'agenda dell'UNESCO per il 2030, sia sicuramente un tema di cui però devono farsi carico le discipline in un'ottica interdisciplinare, in un'ottica più olistica. È citato Morin, quindi da questo punto di vista ragionare su interdisciplinarità e trasversalità è sicuramente importante. Quello che secondo noi non è utile sono la sommatoria dei progettini senza supporto culturale alle spalle, quelli sì che lasciano il tempo che trovano e non sono sostenibili neanche dagli allievi. Quindi diciamo il tema della sostenibilità è certamente importante ma a condizione che non diventi il progettino o peggio ancora l'ora settimanale dedicata al problema della sostenibilità. Sarebbe terribile come è terribile l'ora della settimana dedicata ai buoni comportamenti del cittadino che diventa il precettismo laico, il catechismo laico, con una battuta sono le prediche al posto delle pratiche. Noi pensiamo che la cittadinanza sia una questione di pratiche, non di prediche e di voti di condotta. Ok. Bene, allora grazie a Mario Ambel per questa interessante chiacchierata, però chiudiamo ricordando appunto il libro di cui abbiamo parlato che si intitola? Una scuola per la cittadinanza, sottotitolo Idee, percorsi e contesti, è diviso in due volumi, il volume primo si intitola Il progetto curricolare, il secondo Gli orizzonti di senso ed è edito da PM Edizioni. Grazie ancora Mario Ambel. Grazie a te. Grazie a te.